domenica 5 marzo torna la sedicesima edizione della strasimeno partecipa anche tu all'ultra maratona lungo le coste del lago trasimeno con partenza e arrivo a castiglione del lago e per le famiglie c'è anche la strasimeno family una passeggiata di 6 chilometri e mezzo non competitiva viene a correre la strasimeno ti riempiremo i piedi di chilometri e gli occhi di meraviglia